Ciao dolcissime dolcissime, vi faccio vedere cosa mi hanno regalato le mie sorelle Maria e Cinza per Pasqua. Cinza mi ha regalato questo puff e Maria questo puff. Sono della stessa dimensione, solamente cambia il colore. Qui ho messo tutte le mie trozzole, anche qui. Apriamo, qui vedete cosa tengo tutte le mie trozzole. Spazzole, orecchie di cervo, maschera, smalto, mascara, rossetto, faro eccetera eccetera. Qui invece ho i cappelli, i slip, i miei famosi cappelli. Vedete quanti sono belli i miei cappelli. Ho messo qui i miei capelli e il latte trossola per non andare alla polvere. Sono due bellissimi puff e mi piacciono tanto. Aspetto i vostri commenti. Un bacio e alla prossima video. Ciao!